Questo era l'obiettivo di AMA, io credo che noi inizieremo a lavorare su un nuovo corso dei rifiuti, è chiaro che affronteremo immediatamente come in realtà abbiamo già fatto in questo mese, affronteremo da subito questo tema dei rifiuti perché il nostro obiettivo è quello di ripulire la città e quello di rifar partire gli impianti che per oltre otto mesi non sono stati manutenuti, si sono rotti, adesso lavorano a scartamento ridotto, quindi dobbiamo proprio riavviare un ciclo che nel corso degli anni e soprattutto nell'ultimo anno è stato completamente abbandonato a se stesso e questo non è tollerabile.